Pietro Pitalisi, neodeputato di Forza Italia, un'elezione è arrivata al termine di una battaglia elettorale difficile come non mai insomma. Ma ogni competizione elettorale ha la sua storia, questa indubbiamente era molto importante perché si decide una svolta come noi auspichiamo delle sorti di un paese e di una regione che altrimenti parevano vocati all'immobilismo. Registriamo una vittoria del centro-destra come prima forza in Italia, registriamo una tenuta in regioni come la Sardegna dove Forza Italia è secondo solo al Movimento 5 Stelle e quindi questa è la base per ripartire e ricostruire un centro-destra in chiave autonomistica che sappia guardare con più fiducia gli appuntamenti anche prossimi delle regionali. Dopo 5 legislature al Consiglio regionale lei adesso diventa deputato in Parlamento, penso porterà le istanze del Nuorese e della Sardegna. Io penso che sia assolutamente urgente far sentire la voce dei sardi a Roma perché la Sardegna per troppo tempo è rimasta indietro per quanto riguarda l'attenzione sulla viabilità, sui trasporti, il tema della continuità territoriale, dell'insularità, di una fiscalità di vantaggio che è assolutamente necessaria per le zone interne. Sicuramente penso e spero che anche gli altri eletti possano fare massa critica importante, unire le forze per dare un sostegno forte ai sardi. Questo è il primo nostro obiettivo al di là delle appartenenze politiche. Lei ha una grande esperienza politica, qual è il suo giudizio su questo successo dei 5 Stelle a livello nazionale ma anche in Sardegna? È sicuramente un voto di protesta perché penso che molti cittadini neppure conoscano i candidati dei 5 Stelle. È una reazione alla politica della giunta del Presidente Pigliaru che non ha prodotto significativi risultati sul piano del lavoro e delle gravi crisi che investono i settori produttivi. Questo lo dimostra il travasamento di voti dal PD a 5 Stelle visto che il PD si è ridotto ai minimi termini.